3 3 3 3 3 4 5 5 6 7 7 7 7 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 16 16 17 17 A presto, in palo, in palo. e' la rinca No, c'è una seconda. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti